Il Cilento e il Vallo di Diano sposano la green economy e la sostenibilità energetica e ambientale. Sono stati approvati i piani congiunti di azione per l'energia sostenibile relativi alle aree Bussento-Lambro e Mingardo, Gelbison-Cervati, Golfo di Policastro e Vallo di Diano-Tanagro. A renderlo noto è stato il presidente di CONSAC Gestioni Idriche, Luigi Rispoli, uno degli enti coinvolti in questo macro progetto. I Joint PAES, Piani di Azione per l'Energia Sostenibile, consentono di concorrere alla strategia europea 2020, che punta, attraverso l'impegno diretto dei sindaci e degli enti locali, ad andare oltre l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica del 20% entro il 2020. Già il PAES Alento-Montestella lo scorso ottobre ottenne un riscontro positivo dalla struttura tecnica incaricata dalla Commissione europea, visto che il risultato tra i primi cinque PAES italiani pervenuti, con più di cinque comuni. Ora, dopo un lavoro congiunto, partito nel 2011, di CONSAC Gestioni Idriche, Ato Sele, i primi cittadini del territorio che hanno aderito al patto UE dei sindaci, e la consulenza tecnica del docente della Seconda Università di Napoli, Carmine Lubritto, si è concluso anche l'iter di approvazione dei joint PAES di queste altre aree del Cilento, Vallo di Diano e Golfo di Policastro, che interessano i 50 comuni soci di CONSAC. Ora la palla passa in mano alle comunità locali, che dovranno attuare gli interventi previsti nei PAES, con l'efficientamento energetico delle strutture pubbliche, l'uso di fonti rinnovabili, la mobilità sostenibile, campagne informative di divulgazione, progettualità e innovazione. CONSAC sta già lavorando al reperimento delle risorse economiche necessarie, attingendo ai finanziamenti europei. È stato infatti incaricato il Center for European Policy Studios di Bruxelles, per la presentazione dei joint PAES alla Banca Europea per gli investimenti, e la richiesta dunque di contributo alla progettazione attraverso il programma Elena. La banca sta attualmente vagliando l'istanza, ma il territorio a sud di Salerno ha già dimostrato, ancora una volta, di essere pronto e primo sulle tematiche relative all'ambiente e alla sostenibilità, avendo compreso che sono i suoi punti di forza. I joint PAES, ha detto il presidente Rispoli, rappresentano un'importante occasione per il territorio in termini di sviluppo della green economy e di crescita economica e occupazionale, favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro a livello locale.